buongiorno non ve lo aspettavate allora per quelli di voi che mi seguono per chi mi ha seguito sempre e avrà visto quel video che ho fatto dove spiegavo le motivazioni per cui lasciavo forse il canale ve l'ho posto qui così ve lo andate a rivedere diciamo che le cose sono un po cambiate perché non posso spiegare troppe cose online però diciamo che ho quasi risolto per cui dovrei riuscire a fare video e a monetizzarli senza diciamo avere problemi col fisco e quindi ho deciso di tornare nel canale vabbè adesso io tra un po partirò per le ferie quindi ci saranno tantissimi video sicuramente un paio prima delle ferie li farò e niente quindi abbiamo tante cose di cui parlare rifarò le live certamente rifarò le live non so quando ma le faccio sicuramente o devo ringraziare tutti quelli che in questi mesi hanno continuato a scrivermi e a incoraggiarmi per fare video sul canale e che non hanno smesso di seguirmi perché mi hanno sempre inviato delle mail delle richieste o comunque mi hanno hanno sempre messo di mi piace insomma io ho seguito in sottofondo il mio canale la mia pagina facebook anche se non postavo più video e quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto gli iscritti ho visto che sono aumentati siamo abbiamo superato i 3 i 3 mila iscritti questo mi rende molto felice e quindi vuol dire che il canale nonostante sia stato tra virgolette abbandonato per per mesi comunque ha accumulato iscritti e visualizzazioni e questo vuol dire che è una cosa positiva significa che nonostante non ci siano state promozioni aggiornamenti nuovi video eccetera vuol dire che il canale comunque interessante e quindi non ho deciso mi è dispiaciuto doverlo doverlo lasciare per questi mesi e quindi ho fatto in modo di risolvere il problema che avevo e niente quindi ragazzi già da questo weekend forse prima posterò un nuovo video adesso devo decidere su che cosa però ci sono argomenti ce ne sono tantissimi nel frattempo è arrivato il gtpr ci sono delle novità su cloud ho acquisito più conoscenze ancora su amazon su e quindi continueremo sicuramente la nostra strada sul cloud ho scoperto per esempio aruba che da dei server a un giga di ram con un euro al mese quindi un ottima veramente un'ottima cosa ci sono dei provider di hosting e di cloud provider nuovi che sono molto interessanti insomma faremo faremo diversi video io vi ringrazio vi invito sempre a inviarmi messaggi commenti per farmi nuove richieste nuove proposte di video come al solito sono sempre in mezzo al traffico di roma caldo micidiale e quindi ragazzi grazie a tutti ci vediamo al prossimo video e rimanete sintetizzati sul canale iscrivetevi e cliccate soprattutto sulla campanella per rimanere aggiornati ciao ciao a tutti